Deathmatch squadra Trae, 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 trae Forza, trae, trae Oh Torreta robot in arrivo Attrovviginamento in arrivo Rav ativo Alvo neutralizado Oh 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 Missile predator pronto a lancio Ripeto missile predator pronto a lancio Missile predator alleato in arrivo Oh 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 Alvo neutralizado Alvo atingido Alvo atingido Me dê cobertura Estou recarregando Alvo atingido Harrier alleati in arrivo. Helicottero alleato in arrivo. Helicottero alleato in arrivo. Helicottero alleati. Helicottero alleati. Grazie a tutti.